Impedisse all'avversario di attaccarci e ci consente quegli attimi necessari per consolidare la presa d'attacco. Il poter prendere con entrambe le mani dallo stesso lato ci consente di applicare una notevole forza necessaria per l'applicazione della tecnica. E' un esercizio importantissimo per il nostro allievo sia per migliorare la presa che per migliorare l'automatizzazione degli spostamenti che serviranno per la presa stessa. E' un esercizio importantissimo per la presa stessa.